Hanno votato due minori, tutto da rifare quanto sostiene la cordata di Francesco Peregrino, che per pochi voti non è stato eletto capitano della Real Maestranza. Una bomba a Celsereno, quel che arriva con il ricorso presentato all'indomani dell'elezione del capitano, quest'anno della categoria dei calzolai, pellettieri e tappezzieri. Nel corso dell'assemblea, svoltasi martedì sera, nella sede dell'Unione Muratori, alla presenza di 24 votanti era stato eletto con 12 voti Filippo Aleo, mentre l'altro candidato, Francesco Peregrino, aveva riportato 11 consensi, una alla scheda bianca, elette nell'occasione, così come vuole la tradizione e anche le altre cariche capitanali, Giuseppe Corbo, Scudiero, Carlo Cusumano, Alfiere Maggiore, Agostino Andaloro, Portabandiera e Federico Campo alla Bardiere, ancora da eleggere il portatore della bandiera storica. Cariche al momento congelate, così come ci ha riferito il presidente della categoria, nonché vicepresidente della Real Maestranza, Angelo Mossuto, che abbiamo contattato telefonicamente. Sarà illegale rappresentante della categoria nelle prossime ore a sciogliere ogni dubbio in merito all'elezione avvenuta. Tre presenti all'assemblea, infatti, due 17 anni, un appartenente alla categoria da ben 11 anni e l'altro da 4, entrambi ammessi alle votazioni dall'assemblea anche alla presenza del padre spirituale, Leandro Giugno, il quale più volte ha invitato gli intervenuti a sellevare eventuali dubbi prima delle elezioni. Dubbi che, a quanto sembra, non sono stati sollevati da nessuno in quel momento, tant'è che si è proceduto regolarmente alle votazioni. Sia il regolamento della categoria, sia quello della Real Maestranza, non accennano ad un'eventuale votazione di minori in seno all'assemblea. Sarà dunque il legale rappresentante, una volta visionate le carte e ascoltati i dubbi sollevati, a decidere se ritenere valida l'elezione a capitano della Real Maestranza del 55enne Filippo Aleo o se riproporre le votazioni.